Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradare regionale. Infipilì per lavori, rallentamenti tra la Strassigna e Montelupo in direzione Mare. Ricordiamo che si tratta di interventi per il miglioramento della sicurezza con restringimenti. Restano validi percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al crono programma. Per i stessi lavori resta chiusa l'entrata di Ginestra in direzione Mare. Sempre infipilì per lavori, chiusa l'uscita di Tirrenia per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, in riferimento ai lavori di ottimizzazione della viabilità nella zona di via Pistoiese, dal lunedì segnaliamo interventi in via di San Donnino. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Era l'ultima notizia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Un viaggio. Grazie a tutti.